Oggi, 16 dicembre 2020, non si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il prodigio è atteso nella giornata di oggi, 16 dicembre, ultima delle tre date nelle quali tradizionalmente si ripete. L'abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, Monsignor Vincenzo de Gregorio, lo ha annunciato al termine della messa celebrata alle nove sull'altare del Duomo, quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte, ha spiegato l'abate, il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido. Alle nove l'abate della Cappella di San Gennaro, Monsignor de Gregorio, ha preso dalla cassaforte della cappella la teca con il sangue del Santo Patrono portandola sull'altare maggiore del Duomo per la celebrazione della messa. La teca sarà riportata nella cappella alle 12 per essere ripresa nuovamente alle 16.30. Alle 18.30 sarà celebrata la messa, con la speranza dei fedeli di ricevere finalmente in quell'occasione l'annuncio dell'avvenuto miracolo. Ricordiamo che le pochissime volte in cui il miracolo di San Gennaro non è avvenuto, sono sempre accadute tragedie e catastrofi per la città di Napoli e la Campania, e non solo. Nel settembre del 1939 e del 1940, ad esempio, in corrispondenza con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale e dell'entrata nel conflitto dell'Italia, nel settembre del 1943, data dell'occupazione nazista, nel settembre del 1973, periodo della diffusione del colera a Napoli e nel settembre del 1980, anno del terremoto in Irpinia accaduto il 23 novembre del 1980. Tutte date in qualche modo drammatiche. E anche nei secoli scorsi, si ricordano giorni in cui il miracolo non è avvenuto. Coincidono spesso con assedi, eruzioni e pestilenze. Non resta che sperare che, in giornata, il sangue del Santo Patrono di Napoli si sciolga, ed il miracolo avvenga.